Il 36esimo campo missionario diocesano quest'anno aveva come tema la misericordia. Nei giorni dal 10 al 16 luglio una carovana di 50 giovani a bordo di Pulmini si è spostata in cinque diverse parrocchie del territorio diocesano, Pergola, Mondavio, Tavernelle, Cagli e San Lazzaro di Fano per vivere insieme alla comunità che li ha accolti i tre momenti che caratterizzano ogni giornata del campo, il lavoro, la formazione e la festa. Una giornata intensa che inizia dalle nove della mattina con l'arrivo nella parrocchia e termina la sera alle 21 con i canti, le testimonianze ed i balli per ringraziare la parrocchia che li ha accolti. Il campo ogni anno si pone l'obiettivo di far vivere ai giovani della chiesa diocesana una settimana alla riscoperta della fede, una settimana in cui lavorare per aiutare chi è bisognoso e più lontano da noi, una settimana per incontrare l'altro, per riscoprire la gioia della propria fede e farne dono a chi si incontra per strada nella vita di tutti i giorni. Anche quest'anno i ragazzi della nostra diocesi si sono giocati in questa esperienza del campo missionario diocesano, una settimana di incontri, di formazione e di festa. La cosa bella che penso possiamo dire dopo questa esperienza è che i ragazzi iniziano senza conoscersi e poi stando insieme fanno un'esperienza di profonda unità, unione tra loro, animati dallo spirito del Vangelo. Quindi questi ragazzi in questa settimana ci hanno dato un'immagine viva di cosa vuol dire vivere il Vangelo da giovani e viverlo in chiave missionaria. Questa è l'attenzione che il centro missionario da anni vuole trasmettere ai ragazzi che partecipano al campo e alle realtà che poi incontrano per la diocesi. Quindi siamo contenti anche quest'anno di questa esperienza e speriamo che possa essere stata per tutta la nostra diocesi di Fano, Fossombrone, Caglie, Pergola che è stata toccata veramente in tutte le sue parti. Speriamo, come dicevo, che possa essere stata un'esperienza veramente di animazione missionaria perché tutti quelli che ci hanno visto incontrato possono aver sentito la gioia di un Vangelo giovane e un Vangelo per tutti.